ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video siamo in un video flash un video che faccio così proprio per approfittarmene poi vi spiego perché in cui darò un ultimo saluto nella mia vecchia location di che sto parlando beh come sapete se mi seguite o se avete visto i miei ultimi video ho cambiato location quindi è cambiato tutto il luogo è cambiato tutto quanto e se mi trovo nella vecchia location in cui facevo sono partito a fare i primi gameplay le prime recensioni in cui ho iniziato ad avviare la mia carriera da youtuber in questo caso in questo caso questo momento mi trovo nel luogo in cui se mi conoscete da tanto tempo è capitato in cui in quel momento in quella scena in cui io passavo da una stanza all'altra friggendo le zanzane che mi rompevano i coglioni in questo momento io mi trovavo qui avevo la telecamera puntata qui e io intanto passò da questo punto a quell'altro questo punto a quell'altro adesso vi faccio anche una dimostrazione e quindi come vedete sono spariti tutti i mobili ma invece spostiamoci nel cuore della mia location perché vi farò vedere adesso il luogo preciso in cui avevo la mia postazione e in cui registravo adesso mi trovo nel luogo in cui dovrebbe esserci la scrivania vedete non c'è niente il luogo in cui avevo il computer avevo la mia postazione completa di tutto quanto webcam inclusa e la telecamera era posizionata perfettamente in questo luogo in questo luogo circa in cui ecco qua potete vedere in cui qui dietro avevo tutta la dimostrazione la famosa finestra che si apreva e si chiudeva quando gli pareva la famosa porta in cui spawnavano zanzare mosche calabroni e il famoso palimento in cui scivolavo dove qui avevo la mia sedia qui avevo il computer e qui più o meno era posizionata la telecamera bellissimi tempi proprio da qui proprio da questo punto che ho iniziato che è iniziato a nascere la mia passione per youtube e ringrazio anche questa location perché da qui dal mio primo gameplay train simulator 2013 che mi è nata veramente la passione di fare video e ringrazio ancora tutti voi per questo grande sossegno che mi state dando per questi 550 iscritti superati e il momento in cui sto scrivendo ne ho 558 quindi grazie ancora milioni di grazie perché sto ancora andando avanti anche lentamente ma sono soddisfatto perché anche con una location il canale continuerà ad andare avanti come avete visto già sono partiti con ghost dragon star conflict eccetera io vi auguro anche buone feste nel caso non farò più video ma non è detto questo vi auguro buone feste spero di se avete qualcosa qualche commento qualche domanda strana potete farlo visitare il mio sito web suggerimenti quello che volete grazie per aver visto questo video grazie per esservi annoiati insieme a me però no non ci sono tanto il pezzo è del 25l 98 ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti.